per tutti i prossimi corsi allora abbiamo ancora 85 slide quindi verso la metà del pomeriggio avremo finito quello è l'obiettivo farli fuggire oh e non me ne d'accordo ho fatto ho fatto la lampada ok se dopo questa mattina mi volete la mia difficoltà superante in questo momento è avere un vittorio così perso però se lo facciamo più mirato magari ci sentiamo anche bene così capisco certo non è bene volentieri diamoci del tutto se ne ha potere è molto valentino ok allora sono certa che la mia esposizione di oggi vi avrà a tal punto affascinato che le poche informazioni che riuscirò a darvi nella prossima oretta non pagheranno la vostra curiosità ma per tutte le curiosità che vi saranno rimaste assolutamente insoddisfatte e inammissibili nella vostra vita è sufficiente che in un qualunque motore di ricerca voi digitiate i b c istituto beni culturali l'od e arriverete a questa a questa pagina in cui abbiamo raccolto tutte le informazioni sul progetto su dove sono pubblicati i dati su come si vedono i dati su come si fanno le query su quali sono i dati che abbiamo pubblicato e quali quelli che pubblicheremo insomma è un po' una pagina informativa su tutto quindi se qualcuno vi dovesse chiedere di fare un riassunto una relazione su quanto vi ho raccontato oggi da qua potete copiare molto serenamente tutte le informazioni poi non dite che non vi voglio bene molto bene andiamo oltre a parte gli scherzi cerchiamo di tenere abbastanza aggiornata questa pagina per dar conto a chi vuole riusare i nostri dati di qual è il work in progress perché appunto a volte abbiamo ampi momenti di aggiornamento grandi attività altre volte apparentemente dei momenti di stasi quindi vi invito a controllare sempre questa sezione per capire che cosa stiamo facendo come vi dicevo tutti i link ed open data pubblicati da IBC sono disponibili su un endpoint SparkQL questo endpoint SparkQL è ospitato in una piattaforma regionale che possono usare tutti gli istituti e i comuni, le province tutti gli enti pubblici locali della regione gratuitamente e quindi l'istituto beni culturali come tutti gli altri enti utilizza questa piattaforma ovviamente come tutte le piattaforme di questo tipo è una questione di dimensione e di sostenimento dei costi riusciamo a fare massa critica siamo riusciti a mettere in piedi l'endpoint SparkQL e lo mettiamo a disposizione di tutti quelli che lo possano sono interessati a utilizzarlo anche per pubblicare i loro dati quindi se voleste fare un progetto di pubblicazione di link ed open data di un settore di un aspetto della vostra vita della vostra professione anche che non riguardi minimamente i beni culturali su questo portale datiemiliaromagna.it ci sono tutta una serie di spazi dedicati tanto agli open data quindi CSV ma anche tabelle ma anche XML quanto ai link ed open data con strumenti diversificati a seconda della necessità ognuno dei nostri dataset perché tutte le volte che noi pubblichiamo un insieme di triple possiamo decidere di diciamo raggruppare le triple che pubblichiamo in dataset tematici noi ad esempio abbiamo deciso di fare un dataset solo per le biblioteche un dataset solo per gli archivi un dataset solo per i musei in modo tale che se qualcuno è interessato solo a un aspetto ad esempio alle farfalle come vi ha mostrato Franco Facondini può andare a scaricarsi e a utilizzare solo quel dataset lì ma in realtà questa è una partizione solo per la presentazione dei dati i dataset non sono reali sono delle query su un unico gigantesco contenitore di dati che sono tutti i load di BC ma sono pensati per dare una chiave di lettura un po' più semplificata alle tipologie di informazioni presenti per ciascuno di questi dataset c'è una scheda che vi dice quando è stato aggiornato il dato l'ultima volta quali sono le fonti di questo dato quindi qual è il sistema informativo tradizionale di partenza quali sono le tipologie di dati contenuti e perché sono pubblicati quei dati una volta che uno sa di cosa ha bisogno è superflua come informazione ma vi consiglio nel momento in cui vi metterete in testa di fare un'applicazione o uno strumento basato su LinkedIn Open Data di andare sempre a controllare le informazioni sul dataset perché sarebbe davvero sconveniente dal punto di vista professionale ed economico investire risorse tempo ed energie su un dataset che magari non viene pubblicato da anni o che non è manutenuto o che non ha un ente responsabile della sua pubblicazione perché poi se avrete dei problemi con quei dati non avrete modo di risolverli né di avere un interlocutore quindi chi pubblica LinkedIn Open Data per il riuso dovrebbe tutte le volte fare lo sforzo di dichiarare ai suoi potenziali riutilizzatori tutte le caratteristiche dei dati che sta pubblicando e anche l'impegno poi a tenerli aggiornati con quale cadenza la nostra cadenza è annuale noi ci impegniamo in questo non è il top di gamma ci sono realtà che riescono a fare aggiornamenti molto più frequenti molto più tempestivi ma e attendere anche noi vogliamo arrivare a un risultato migliore ma il termine annuale cioè l'aggiornamento annuale è per noi in questo momento credibile e realizzabile quindi ci sentiamo di garantire ciò a cui sicuramente riusciamo ad arrivare anche perché tutte le procedure che vi ho descritto di estrazione di questi dati in questo momento sono per noi semi-automatizzate cioè c'è una procedura che non è altro che un foglio di stile fogli di stile ok non è altro che un foglio di stile applicato ai file xml posseduti dall'istituto che scrive file rdf quindi a questo punto di vista la procedura è completamente automatizzata c'è fatta l'analisi noi in qualunque momento dai nostri xml possiamo produrre rdf ok però non è automatizzato tutto l'allineamento di questi dati con l'esterno vi ha parlato franco di interlinking e di allineamento con l'esterno no adesso ci arriviamo e quindi tutta questa parte che non è automatizzata ha dei tempi di lavoro che ci fanno garantire all'utente esterno un aggiornamento all'anno da questa descrizione del dataset si accede all'endpoints parql cioè a quella pagina di ricerca quella finestra aperta sul cuore dei lod da cui si possono fare ricerche qual è uno dei punti di forza di questa tipologia di linguaggio se voi dovete fare una ricerca all'interno di un database o di una tabella excel o di un qualunque sistema informativo il primo problema che voi avrete sempre è sapere che cosa potete cercare cioè quali sono i dati contenuti come sono mappati questi dati come sono strutturati cioè che tabelle ho che campi ho è un valore numerico alfanumerico come è fatto di norma noi nel momento in cui ci avviciniamo a un sistema informativo non sappiamo che tabelle ci sono sotto come è fatto sotto usiamo dei campi di ricerca e arriviamo con ragionamento a pensare forse troverò ciò che ho effettivamente necessità di trovare tant'è che spesso i più grandi utilizzatori di una banca dati chi sono? quelli che l'hanno fatta più che utenti esterni perché chi l'ha fatta sa perfettamente come è organizzata l'informazione e riesce a farti tutte le query possibili e immaginabili uno dei punti di forza e di interesse dei LOD è che io non devo sapere a priori come sono fatti i dati pubblicati cioè non sono obbligata a sapere quale ontologie sono state utilizzate come sono state utilizzate quanti dati ci sono come è fatta quella tabella qual è se è un campo alfanumerico o solo testuale non sono obbligata a saperlo perché la query che già in automatico questo open source che è virtuoso che è un software che fa girare passatemi il termine l'endpoint sparkql su cui abbiamo pubblicato i nostri dati e ce ne sono tanti altri che fanno questo mestiere l'endpoint sparkql lanciando questa prima query che vedete qua che è presentata di default mi dice fin da subito quali sono tutti i concetti quindi quali sono tutte le proprietà e le classi utilizzate all'interno di questo dataset quindi diciamo che il dato stesso si autopresenta a me dicendomi com'è strutturato se io lancio questa query che cosa otterrò otterrò una lista di tutte le classi e proprietà usate in quel dataset ad esempio otterrò che ne so guardate che è stato usato FOAF document oppure vedrò che è stato usato di schema questo insieme di proprietà vado un po' più giù e cerco quelle un po' più parlanti ad esempio vedrò che è stata usata l'ontologia culturalis che ha come namespace quindi come abbreviazione diciamo dell'ontologia cult o cult a seconda e di questa ontologia sono state usate le classi catalog library extent admission condition of use services e così via poi per ciascuna di queste classi o proprietà quindi di questa lista di dati che sono pubblicati all'interno di quel dataset ciascuna di queste è ovviamente un link è un URI vera e propria e cliccandoci sopra avrò accesso all'ontologia che ha pubblicato quella classe l'ha definita e mi dice come è stata usata come può essere usata e che cosa contiene quindi chiunque di noi anche se si approccia a un dataset linked open data di dati che non conosce di cui non conosce il contenuto ha di primo acchito una lista di tutti i campi possibili quindi in realtà di tutte le proprietà e le classi utilizzate per pubblicare i dati di quella istituzione ovviamente più l'istituzione è brava più avrà usato avrà pubblicato le stesse informazioni usando e riusando tante ontologie diverse e quindi avrà usato non so Dublin Core che è un'ontologia stranota e strausata tutte le volte che può anche se magari per la denominazione di un libro per il titolo di un libro avrà usato l'ontologia specifica delle biblioteche ma anche Dublin Core ma anche Schima cioè ridondando le informazioni e quindi io informatico io sviluppatore o io curioso aprendo quella lista di classi e proprietà dirò ok Dublin Core lo conosco allora adesso mi tiro fuori tutte le proprietà Dublin Core che già conosco tutti gli elementi le classi Dublin Core che già conosco e mi lancio una query che mi tiri fuori tutte le informazioni già pronte in Dublin Core perché perché io ho già un'app che lavora con Dublin Core che magari riguarda un contesto informativo simile e voglio vedere se posso mettere insieme i dati senza bisogno di sapere a monte se quei dati lì sono tutti se ce ne sono altri se posso approfondire non importa scelgo io un canale di utilizzo se invece voglio sapere tutto quello che c'è costruirò una query che mi esporti per ciascuna entità tutte le proprietà possibili quindi farò una gigantesca query che partendo da quella lista di classi e proprietà mi mostri tutto il contenuto del dataset questo meccanismo come potete ben immaginare è una volta che uno l'ha capito e ha imparato a utilizzarlo rende infinitamente liberi infinitamente liberi di fare che cosa intanto di riusare quei dati ad esempio noi pubblichiamo informazioni sugli istituti culturali ma degli istituti culturali in Emilia Romagna non ne parla mica soltanto l'Ibc la maggior parte di loro ha una pagina Wikipedia in cui pubblicano informazioni ha un sito ha una pagina Facebook cioè sono istituti che hanno tutta una loro vita assolutamente indipendente e autonoma da Ibc allora che cosa abbiamo fatto abbiamo aperto i dataset linked open data ad esempio di Wikipedia che pubblica tutti i suoi dati in DBpedia in formato LOD e siamo andati a cercare con le ontologie di DBpedia i nostri istituti culturali dicendo vediamo che cosa se c'è qualche informazione sulla biblioteca comunale di Rimini all'interno di DBpedia tutto ciò non l'abbiamo fatto perché conosciamo il tracciato informativo di DBpedia non sappiamo lo sappiamo perché ormai ci abbiamo guardato dentro ma in partenza non sapevamo quali classi hanno usato quali ontologie hanno usato ma abbiamo lanciato questa stessa identica query sul dataset di DBpedia abbiamo visto quali potevano essere le classi e le proprietà utili per il collegamento con i nostri istituti e abbiamo fatto quello che si chiama allineamento semantico o interlinking cioè abbiamo dichiarato che la mia biblioteca comunale di Imola è la stessa biblioteca comunale di Imola descritta da quella pagina da quella risorsa di DBpedia o di Facebook l'allineamento semantico è quell'operazione che mi consente di collegare i miei link ed open data ai link ed open data pubblicati da qualcun altro sulle mie stesse risorse informative quindi su ciò che io intendo valorizzare intendo pubblicare il principio è il medesimo per conoscere i nostri dati o per conoscere i dati pubblicati da altri poi vi faccio vedere qualche esempio concreto se però invece che questa query che è quella appunto generale che mi tira fuori semplicemente i concetti i contenuti presenti io ne lancio una un po' più complessa che adesso leggiamo il risultato ovviamente mi si precisa riuscite a leggere anche da in fondo non molto aspettate che provo forse così un po' meglio allora proviamo a leggere questa query siate clementi ricordate che non è esattamente il mio mestiere anche se queste query anche un archivista può imparare a scriverle cioè io ormai a forza di vederle so fare a scrivere le query in SparkQL perché sono alla fine un meccanismo abbastanza intuitivo per la loro realizzazione allora innanzitutto guardate un po' che cosa dice questa query questa query mi dice seleziona e tieni distinte tutta una serie di oggetti poi non devi sapere prima come è fatto quel database ma vai a dire tu come vorrai che sia fatta la tabella che vuoi tirarti fuori i formati che tiri fuori sono i più vari però e poco importa in questo momento però tu vai a dichiarare quale finche quale colonna finche è un termine tipicamente archivistico dei registri d'archivio scusate quale colonna della banca dati della tua tabella vuoi che ti vengano popolate quindi in questo caso io ho detto io voglio per ogni soggetto per ogni riga per ogni record che vado a tirar fuori che cosa voglio la URI quindi quell'urla che mi fa anche da identificativo poi voglio una denominazione voglio il comune di residenza di quell'istituto voglio l'indirizzo longitudine latitudine e il link cioè la pagina in cui viene descritto quel soggetto lì e che non è uguale a URI non è uguale a URI perché in quel caso il link è il link alla pagina istituzionale del soggetto però anche qua URI denominazione comune indirizzo non sono nomi di classi o nomi di proprietà sono etichette che io sto decidendo in questo momento cioè se io voglio che la prima colonna anziché URI si chiami identificativo io qua scriverò punto interrogativo identificativo se le voglio scritte maiuscolo e minuscolo le scriverò maiuscolo e minuscolo perché in questo momento io non sto cercando un'informazione dentro il dataset ma sto dicendo semplicemente qual è il titolo delle varie colonne della mia tabella poi che cosa gli devo dire allora innanzitutto gli devo dire dove voglio che mi faccia questa ricerca e il bello di questo tipo di linguaggio è che mi può fare la ricerca sia nel mio dataset che anche in altri dataset contemporaneamente cioè io gli posso dire intanto me lo cerchi qua e poi con un union particolare posso fare una query federata che contemporaneamente mi va a prendere i dati anche da un altro dataset pubblicato in un altro endpoint da un altro soggetto in questo caso rimango qua dentro per semplicità e gli dico mi devi prendere fuori tutte le URI cioè tutte le entità che abbiano che siano questa A significa è di tipo è uguale è il Dublin Core type diciamo è una proprietà base non importa che siano di tipo museo poi tutte le entità che siano di tipo conservatore d'archivio tutte le entità che siano di tipo biblioteca e tutte le entità che siano di tipo castello quindi io gli sto dicendo allora ho visto nella mia tabella dei valori che avevo queste classi che mi erano state definite che nel mio dataset sono definite queste classi castello biblioteca conservatore d'archivi e museo e gli dico tirami fuori le informazioni da tutte queste tipologie se io tolgo un union ovviamente toglierò quella tipologia dalla mia query poi che cosa gli dico allora gli vado a dire qual è con cosa mi deve popolare la tabella cioè per ciascuna di queste colonne URI denominazione comune gli vado a dire qual è la proprietà che deve andarmi a estrarre dai dati e come faccio a saperlo ho guardato le proprietà in quella prima schermata iniziale e quindi so che ad esempio le URI io le ho pubblicate con tante proprietà diverse ma le ho pubblicate all'interno scusate che la denominazione l'ho pubblicata all'interno di un elemento che si chiama Dublin Core Title se ci fate caso questo modo di questa tipologia di query non è altro che una tripla cioè io sto dicendo per ogni URI prendimi tutti gli oggetti che rispondono a questa proprietà quindi sto usando la stessa struttura del dato che è fatto per triple io nel mio dato avrò che l'identificativo 5 la URI 5 ha come title Biblioteca Comunale di Rimini la query la scrivo esattamente nella stessa maniera cioè dico per ogni URI popolami il campo denominazione la colonna denominazione usando questa proprietà Dublin Core Title in realtà la denominazione io ce l'ho anche in un'altra proprietà in un culturalis name ce l'ho anche in foaf name ce l'ho in tante proprietà possibili ma siccome io conosco Dublin Core questa query la faccio in questo modo poi gli dico sempre della stessa URI quindi sempre della stessa riga voglio sapere qual era il dato successivo il comune di residenza soltanto che il comune di residenza non è una palla nell'ontologia nella rappresentazione dei dati collegata direttamente all'URI ma c'è in mezzo un oggetto che è la sede cioè noi abbiamo detto che un istituto culturale ha una sede e che quella sede è situata in un comune e ha un indirizzo allora io non posso dire URI located in comune perché questa tripla non esiste nei miei dati io nei miei dati ho URI located in sede di quell'URI e sede di quell'URI che abbia come label schiva in questo dato il nome del comune cioè io dovrò aver analizzato la struttura dei dati per scoprire che non mi basta il located in il located in mi dirà soltanto sede della biblioteca comunale di Rimini ma all'interno del located in avrò tutta una serie di proprietà e di classi che mi portano in questo caso ad esempio a tirar fuori il comune e quindi con queste due righe non con una riga sola ma con due righe di triple io avrò popolato la colonna comune andando avanti adesso c'è un caso uguale della sede e lo possiamo saltare ad esempio ecco io voglio latitudine longitudine latitudine bene longitudine latitudine sono fatte con questa ontologia long e latta vi ricordate vgs84 ve l'ho mostrata prima e vanno a popolare questa colonna così pure ad esempio il link quindi la pagina vera vera e propria insomma in cui si descrive quel conservatore quell'istituto culturale è collegato all'URI tramite un is referenced by che mi dà il link quindi io vado a costruire la query praticamente riproducendo le triple la struttura delle triple questo esempio di query è fatta così perché io ho deciso di usare queste proprietà se ci fate caso ho usato solo una volta l'ontologia culturalis e avrei potuto non usarla nemmeno in quel caso ma avrei potuto produrre la stessa query tutta con Dublin Core tutta con Geonames tutta con culturalis perché abbiamo cercato di riusare di ridire le stesse informazioni con tante ontologie diverse poi posso dire ordinalo aggruppalo tutti i comandi classici di SQL è evidente che si sono sempre gli stessi esattamente noi garantiamo che se utilizziamo un'ontologia tutte le classi e le proprietà sensate su quel dato sono popolate non quelle non sensate ovviamente cioè soltanto assolutamente sì questa è una parte del lavoro di controllo che facciamo allora come vedete io non sapevo come era fatta non avevo una tabella di partenza la faccio per come mi serve metto insieme i collegamenti e faccio un sacco di prove un sacco di volte le query non mi vengono all'inizio a me almeno un sacco di volte non sono venute ma alla fine non ho bisogno di conoscere un linguaggio particolare non ho bisogno di conoscere necessariamente in partenza che non so per i musei c'era una tabella indirizzi che aveva il comune con il codice istat per le biblioteche c'era una tabella indirizzi che aveva il comune con solo la denominazione perché questo tipo di lavoro io lo vado a fare scusatemi su una serie di informazioni di sistemi informativi nativamente diversi ognuno di questi aveva il suo modo ovviamente perché siamo bravi a complicarci la vita aveva il suo modo di dire l'indirizzo di dire la sede di dire il nome del comune di dire l'identificativo dopodiché una volta che ho fatto lo sforzo di scrivermi questa query la query la posso lanciare ottenendo come risultato diversi formati l'xml il json un csv banalmente perché poi ci devo lavorare tra questi io adesso lascio l'html ma tutti questi esiti funzionano lancio la query e vediamo che cosa ottengo allora ho ottenuto una tabella che presenta come colonne le colonne che le avevo chiesto col punto interrogativo e all'interno a volte ha un dato altre volte ha un uri vediamo come allora in questo caso avevamo chiesto un uri quindi otteniamo non diciamo un dato leggibile dall'uomo ma un uri identificativa il dato invece il campo invece denominazione la denominazione del soggetto era una stringa di testo non era un'altra entità e quindi non ottengo un uri ma ottengo direttamente una stringa di testo il dato comune lo stesso l'indirizzo uguale l'angitudine e latitudine lo stesso il link è un indirizzo ma non è un uri è un semplicissimo link a quella scheda descrittiva e lo ottengo in questo modo quindi vedete che diciamo senza sapere come era fatto il dato dentro e come era strutturato il dato ho trasformato ho estratto da un formato per triple per frasi una tabella cosa accade che se per caso ovviamente se sbaglio a definire le colonne lui poverino non ce la fa cioè se gli dico qua titolo e non vado a definire titolo in nessuna delle triple e lancio la query va da sé che lui mi dice bella gioia cioè abbiamo un problema c'è un errore nella titola nella query perché la variabile titolo è utilizzata come colonna ma poi non mi dici come popolarla ok semplice ma una volta capita questa regola io infilo un insieme di colonne infinite vado a metterci tutte le proprietà usando sempre URI come soggetto e la destinazione diciamo la colonna di destinazione delle informazioni come oggetto e andando a metterci come proprietà che collega URI e oggetto la proprietà che scelgo di volta in volta e io ottengo la tabella con tutti i dati popolati dentro il dataset allora torniamo un attimo qua che cosa si può fare con questo simpatico giochino allora dovete considerare questo aspetto noi studiamo le ontologie scegliamo i database da pubblicare decidiamo come farlo affidiamo questo lavoro a una azienda di informatici state su di me rimanete concentrati grazie affidiamo questo incarico a degli informatici che bravissimi ecco questi sono i lod e mi consegnano una sbragata di triple dal momento che io sono una donna quindi superiormente intelligente rispetto alla media e sono in grado di vedi come si fa ad attenere l'attenzione allora siamo anche in diretta facebook avrei anche una dignità di funzionario pubblico da mantenere allora dal momento io è vero sono molto intelligente ho una grande fiducia nelle mie capacità ma come potete immaginare non ho la potenza di calcolo e di ragionamento di una macchina quindi interpretare centinaia e centinaia di righe di triple per verificare se l'estrazione dei dati era venuta correttamente non mi era molto semplice e oltre a ciò avevo bisogno di far verificare la correttezza delle estrazioni non solo a me ma anche ai funzionari che sono 30 anni che si occupano di popolare queste banche dati allora pensa che ti ripensa avevamo bisogno di uno strumento per poter verificare questi dati prima di pubblicarli e abbiamo usato un browser rdf open source delizioso che si chiama loadview che produce pagine come queste che adesso poi la apriamo in vivo e non in slide questo browser loadview open source browser apposta di rdf che ci ha consentito di leggere i dati in una con una visualizzazione decisamente più umana e più semplice per noi per poterli verificare siccome il risultato tutto sommato pur nella sua povertà ci sembrava efficace questo la personalizzazione di questo browser open source l'abbiamo messa online quindi chi volesse navigare nei link ed open data prima in un formato più umano prima di approcciarsi a una vera e propria query sparquelle direttamente sull'end point potrebbe scegliere anche questa strada e ve lo faccio vedere così vediamo anche un po' di dati allora sempre nella pagina ibc load in fondo dopo tutti i dataset pubblicati le ontologie avete questi visualizzatori questi navigatori di link d'open data disponibili per tutti questo navigatore non è un portale è un oggetto che legge in diretta i dataset pubblicati dai bc quindi io faccio una correzione nel dataset questo portale è già aggiornato perché non fa elaborazioni fa una serie di elaborazioni sue ma non c'è un altro contenitore di dati pesca da lì ok proprio perché è uno strumento di lavoro diciamo la grafica è assolutamente povera la grafica è assolutamente povera ma come vi dicevo considerate che è stato fatto per verificare dei dati non per renderli appetibili è come dire è un'app esso stesso che riusa quei dati ma a scopo di lavoro a scopo di verifica come si vedono i dati se ad esempio noi prendiamo una facciamo una ricerca c'è un solo campo di ricerca modello google modello proprio così piatto io cerco magari scrivendolo correttamente rimini e lui che proprio non ne vuole sapere di complicazioni cerca in tutte le classi e le proprietà pubblicate in tutti i dati pubblicati nel dataset la parola pura rimini quindi questo è una ricerca che per un professionista della cultura sui beni culturali è una ricerca che non vale niente ma ribadisco non è un portale è uno strumento di controllo di navigazione dei lot sulla base di questa ricerca lui mi tira fuori tutta una serie di classi che contengono entità che a loro volta hanno la parola rimini all'interno ma che cosa fa di assai più interessante ancora più interessante sotto sotto questa prima mi presenta le classi ma sotto mi fa vedere in chiaro la query sparql che il browser ha lanciato per ottenere questa visualizzazione chiaro? cioè mi dice mi fa vedere quello che qualunque portale fa cioè qualunque portale lancia una query sui suoi dati per restituirti un esito di ricerca ma questo strumento qua mi fa vedere che cosa ha fatto per produrre la pagina che si vede sopra tant'è che se ci fate caso ad esempio mi dice qua selezionami tutti i conservatori d'archivio holder of archives che abbiano queste caratteristiche quindi che ad esempio abbiano la specifica rimini in qualunque proprietà in qualunque dato di questi soggetti e mi dice limit 10 cioè fammene vedere 10 alla volta perché me lo dice perché nella visualizzazione di questa pagina se ci fate caso noi vediamo proprio 10 oggetti alla volta 10 conservatori d'archivio 10 musei 1, 2, 3, 4 sono 17 ci fidiamo molto bene ok quindi che cosa fa mi lancia la query mi fa vedere il risultato ma mi dice anche qual è la query che ha lanciato per farlo questo può essere un'ottima palestra perché perché facciamo fare a lui il lavoro complesso di capire come realizzare una query con una serie di query successive perché si raffina ovviamente la ricerca e poi andiamo a copiarci la porzione della query che ci interessa e la utilizziamo nel endpoint SparkQL ottenendo nel formato che ci fa più comodo non in una pagina